Dopo i funerali di Franco Gallo e Gaetano Camilleri e dopo l'accorato appello ai governanti da parte del vicario del Vesco, Monsignor Merchiorre Vutera, durante l'omeria delle seque dei due operai morti in un incidente sul lavoro alla diga Furore di Naro, per far luce su eventuali responsabilità, si allarga l'inchiesta della Procura della Repubblica di Agrigento. Sono già iniziate le audizioni dei colleghi di lavoro di Francesco Gallo, 61 anni di Naro, e Gaetano Camilleri, 56 anni di Favara, colleghi dei due tecnici che saranno sentiti come persone informate sui fatti. L'inchiesta per omicidio colposo, coordinata dal sostituto procuratore Salvatore Vella, è sviluppata sul campo dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Ricata e dall'ispettorato del lavoro. Fino a ieri c'erano due persone iscritte nel registro degli indagati. Gaetano Valastro, 52 anni di Catania, dirigente regionale del Dipartimento Acque e Rifiuti presso l'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, e Francesco Mangione, 53 anni di Raffadali, titolare della ditta che si occupa di manutenzione degli impianti della diga Furore di Naro e datore di lavoro delle vittime. Indagati dalla Procura della Repubblica per il reato di omicidio colposo per avere provocato la morte di Gallo e Cammilleri in quanto avrebbero violato le norme per la prevenzione degli infortuni, consentendo alle due vittime di operare nell'opera di manutenzione ordinaria di una torre di controllo della diga Furore senza adottare i sistemi di protezione previsti dalla legge. L'indagine al momento ruota su un unico fulcro, il montacarico utilizzato che non era idoneo, stanto a quanto è stato accertato da investigatori e inquirenti a trasportare persone. Ma l'esame dei nuovi incartamenti acquisiti, che ieri risultava appena iniziato, potrebbe far aumentare il numero delle posizioni di garanzia. Entro lunedì poi dovrebbe essere effettuato il sopralluogo del consulente di parte nominato dalla Procura. Si tratta di un ingegnere meccanico dell'Università di Palermo che dovrà accertare e stabilire quale realmente è la qualità, nonché quale fosse meccanicamente la tenuta dei materiali che compongono le attrezzature che sono state ritenute, secondo l'ipotesi investigativa sviluppata finora, la causa dell'incidente mortale sul lavoro. L'ingegnere meccanico analizzerà dunque il montacarichi e la catena portante. La Procura di Agrigento sta cercando di muoversi rapidamente e sta incastrando i vari elementi raccolti per accertare l'eventuale possibile indiziare responsabilità. Per questa fase, come procedura investigativa esige, sembra infatti indispensabile accertare chi fosse tenuto a fare cosa. È scontato naturalmente che sotto analisi investigativa c'è proprio la questione sicurezza sul posto di lavoro.